Buongiorno David e tante grazie per aver accettato il nostro invito. Ci sarebbe piaciuto moltissimo averti con noi di persona al 32esimo simposio mondiale su biufo di San Marino. Purtroppo però non è così e ti siamo grati per averci dedicato del tempo per questa intervista che verrà mostrata al simposio. Prima di tutto grazie per aver voluto parlare come persona informata e responsabile nell'interesse del pubblico. Questa è una cosa di enorme importanza e se posso parlare a nome dell'intera comunità ufologica voglio ringraziarti dal profondo del cuore per quanto hai fatto e anche per il tanto coraggio che hai dimostrato. Ma ora cominciamo con le domande. Allora Dave, oggi tu sei molto famoso nella comunità ufo, però adesso torniamo un attimino indietro e per favore vorrei che tu ci spiegassi quali sono le motivi di base che ti hanno spinto a fare quello che hai fatto, cioè a farti avanti con queste dichiarazioni esplosive. So Dave, nowadays you are very famous in the whole UFO community, but let's go back a bit and please tell us the basic reasons that made you decide to come forward in the open with your exclusive declarations. Beh, il viaggio che mi ha portato a farmi avanti pubblicamente è stato molto lungo e non avrei creduto che potesse finire così, con me che lasciavo la mia carriera. Già nel 2022 ho riferito questa informazione all'ispettore generale perché mi ero reso conto che la Task Force UAP non aveva accesso a questi programmi di cui ero venuto a conoscenza tramite interviste, documenti, eccetera e per via delle rappresaglie che stavo subendo decisi che era più prudente per me, per la mia protezione, di presentare una denuncia come whistleblower all'ispettore generale dell'intelligence. Questa poi ha fatto il suo corso e verso la fine del 2022 ho fornito tutte le informazioni alle commissioni per l'intelligence ma ho cominciato a capire che non sarei riuscito ad avere l'effetto desiderato di dare impulso alle indagini per portare avanti alla luce questi programmi nell'ambito del governo. Così ho preso l'iniziativa, mi sono guardato un po' intorno e mi sono reso conto che ero l'unico nel mio piccolo gruppo di colleghi che avevo l'opportunità di farmi avanti in pubblico e decisi che questa era la cosa migliore, così che avrei potuto usare la leva della pressione pubblica per responsabilizzare il potere legislativo come quello esecutivo degli Stati Uniti. Mi sono reso conto che internamente non c'era modo di risolvere questo problema, quindi dovevo per forza agire dall'esterno per riuscire a responsabilizzarli. specificamente ci puoi dire se hai sperimentato dei problemi, hai avuto dei problemi a causa appunto di questo, di questo tuo farti avanti con queste dichiarazioni? Good and specifically I would like to know did you experience any kind of problems for what you have publicly declared? Diversi funzionari di alto livello delle agenzie di intelligence in cui ho lavorato non sono stati affatto contenti di vedere la mia faccia in tv. Alcune delle reazioni che ho subito dopo essermi fatto avanti pubblicamente ne ho parlato a porte chiuse al congresso e all'ispettore generale della difesa e si stanno esaminando questi episodi perché il congresso potrebbe rendere pubbliche alcune cose su certi elementi del governo degli Stati Uniti che non erano affatto contenti che io mi fossi fatto avanti. Allora ci potreste dire, per favore, se è possibile naturalmente, quanti veicoli, quante chiamiamoli UFO o UAP, il governo degli Stati Uniti possiede oggi come oggi? So, could you tell us Dave, as far as you are told and as far as you can of course, how many UFO or UAP crafts are in possession of the US government? Queste precise informazioni mi sono state fornite in un ambiente classificato e le ho a mia volta fornite alle autorità. Come ho detto nella mia intervista a NewsNation, ce n'è un buon numero, diciamo un numero a due cifre e anche se non sono autorizzato però a rivelarne il numero esatto per motivi di sicurezza. Inoltre, come ho detto in una recente intervista, a un canale YouTube chiamato Yes Theory, dovrebbe essere il presidente degli Stati Uniti o altre personalità a fornire le informazioni precise, perché io non ho tutti i dati, non conosco tutte le ramificazioni e poi bisogna sempre ricordare che se si danno cifre precise ci sono sempre servizi di intelligence stranieri, tipo Russia, Cina, che potrebbero guardare questo video e usarlo per verificare le loro informazioni e io non sono certo qui per fornire ulteriori dati a servizi di informazioni stranieri. Per questo devo essere sempre molto cauto nel dare cifre, non perché non voglio essere trasparente, ma perché so che questi servizi vedranno questo video. Allora, ci potreste dire qualcosa per quanto riguarda il coinvolgimento delle grosse corporations private, cioè dell'industria privata, nel programma o nei programmi di retroingegneria? Sì, nel corso degli anni ci sono state di sicuro ditte private coinvolte, operando sia in centri di ricerca finanziati a livello federale, oppure sulla base di contratti con il governo degli Stati Uniti. Come ho menzionato in un'altra intervista, nel progetto Manhattan il governo federale ha organizzato, strutturato la sicurezza personale, quali erano gli elementi coinvolti a livello delle imprese private e quali quelli del governo e altri elementi, per esempio come la Commissione per l'Energia Atomica, che poi è divenuto il Ministero per l'Energia e poi la Commissione dell'Energia Atomica. Ed è per questo che nell'emendamento Schumer, che dovrebbe essere approvato presto, speriamo ancora prima del vostro simposio, si menziona fra le altre la legge sull'energia atomica del 1954, perché si è compreso che le misure per imporre la segretezza seguono proprio le linee della sicurezza nucleare. Ma questo comunque è un altro discorso che vedremo magari poi. Ho menzionato l'emendamento Schumer, dove si parla di transclassificazione di informazioni nucleari straniere, oppure TFNI, e questo non è un caso perché significa, ad esempio, che se gli Stati Uniti, mediante operazioni di intelligence, hanno sottratto dei segreti nucleari stranieri che hanno trovato interessanti e li hanno voluto rendere propri, allora li hanno transclassificati trasferendoli nell'ambiente protetto dei segreti nucleari statunitensi. E questo, se leggete fra le righe, è proprio quello che l'emendamento sta cercando di evitare, perché è questo tipo di manovre di cui si abusa per giustificare la segretezza tramite le misure per la sicurezza nazionale. Comunque sì, ci sono compagnie private sicuramente coinvolte, ho fornito tutti i loro dati complete alle commissioni del congresso e all'ispettore generale con tutti i dettagli di cui sono a conoscenza, compresi i nomi e ditte loro indirizzi. Ho fatto in modo anche che persone che hanno lavorato a tali programmi riferissero tutto all'ispettore generale. Insomma, non era una cosa che veniva solo da me. Bene, e ti vorrei chiedere adesso, Dave, tu sei al corrente oppure sei in grado di confermare che sono stati addirittura commessi degli omicidi allo scopo di mantenere il segreto su tutto quello che riguarda gli UFO o UAP, che dir si voglia. So Dave, are you aware or can you confirm the fact that murders have been committed for the purpose of maintaining secrecy on everything concerns the UFO, the UFO, UAP subject? Non ho conoscenza diretta di questo, ma delle circa 40 persone che ho intervistato, direi una dozzina di loro, ha manifestato preoccupazioni su omicidi commessi in passato o sparizioni ingiustificate di persone e di sicuro mi sono successe cose piuttosto disturbanti nella mia vita personale come intimidazioni fisiche, tutte cose che ho riferito alle mie agenzie quando lavoravo per governo. Non ho mai subito danni fisici, ma di sicuro ho potuto osservare tracce di quelle che ritengo attività extra governative illecite, come le intimidazioni che ho subito io e altri dei miei colleghi e vi garantisco che sono cose davvero disturbanti. Non ho quindi insomma nessuna conoscenza diretta diretta su questo, ma ho parlato a testimoni diretti, funzionari governativi in possesso di elevate credenziali di sicurezza che mi hanno fatto partecipe di preoccupazioni in merito ad attività illecite quali omicidi e intimidazioni. Non credo che stessero mentendo, credo che si trattasse di genuine preoccupazioni, sono io il primo a sostenere la necessità di indagini per accertare tutto questo? David, come sai nel 1971, quando ero sottottenente nell'esercito italiano in una unità NATO di Elite con la missile di termini nucleari nel nord Italia, mi fu chiesto da colleghi ufficiali della United States Army se sapevo che gli USA avevano recuperato degli UFO schiantatisi e anche i corpi dei loro piloti. Dunque tu confermi che le stesse affermazioni che ha pubblicamente diffuso sono state fatte in ambienti con classifica di segretezza anche da altri ufficiali militari e di intelligence. As you know, in 1971, when I was a lieutenant of the Italian Army, serving in an elite NATO unit with atomic missiles in northern Italy, I was asked by two United States Army officers if I was aware that the United States had recovered, crashed UFOs and the bodies of their pilots as well. So, in any case, you can confirm that the same kind of declarations that you publicly provided have been provided in classified environment by other military or intelligence officers, Sì, proprio questi fatti mi sono stati confermati da persone con conoscenza diretta che hanno lavorato su questi programmi, cioè che succedono schianti e che abbiamo recuperato velivoli e materiale biologico o corpi, se preferisci, come ho già riferito in precedenza. Questo è molto importante. Potresti fornirci una stima di quante persone informate e responsabili si siano fatti avanti per parlare di fatti del genere e dell'interesse del pubblico? Potresti fornire almeno un'estima di quanti whistleblowers si avvicinano al mondo? Sì, mi sembra che era uscito recentemente un articolo dove si diceva che dovrebbero essere circa una trentina quelli che si sono fatti avanti con l'ufficio Aaro. Io non sono coinvolto in questo, ma posso dire che per quanto riguarda coloro che si sono rivolti all'Ispettore Generale dell'Intelligence, dovrebbero essere circa una dozzina. Alcuni di questi non li conosco, quindi non so se questi hanno portato altri con loro. Ad ogni modo sta di fatto che io non sono l'unico. Io sono solo quello che si è fatto avanti a nome del gruppo, ma sicuramente una dozzina di persone si è fatta avanti a porte chiuse, persone che non sono tutti come me, ma sono quelli che hanno lavorato direttamente al programma, o se preferite sono quelli che hanno proprio toccato i velivoli, eccetera. David, dunque tu puoi confermare indirettamente, almeno in parte, quanto il colonnello Philip Corso ha descritto nel suo libro Il giorno dopo Roswell sulle operazioni di retroingegneria eseguite da ditte private con materiale forniti dai militari? So, you can indirectly confirm at least part of what the late colonnello Philip Corso wrote in his The Day After Roswell book concerning the reverse engineering operations being operated by private corporations with materials provided by the military? Sì, almeno a livello generale è così. Io non posso verificare la sua storia, dato che è morto nel 1998, quando avevo 11 o 12 anni, ma va da sé che se il governo degli Stati Uniti ha in custodia navi spaziali, ne distribuisca pezzi o parti a diverse industrie private allo scopo di effettuarne la retroingegneria. Quindi, almeno a livello generale, la sua storia è vera. Io non posso verificare altri aspetti di questa storia, quali il suo effettivo coinvolgimento e a quale livello, perché non ho mai potuto intervistarlo o investigare questa storia nel corso del mio servizio, ma parlando a livello generale, questo è vero. Ok, e cosa dire dell'aspetto biologico? Quanti corpi sarebbero stati recuperati in base a quanto ti è stato detto? Si trattava di cadaveri o delle entità biologiche ancora vive? Di sicuro questi sono numeri come quelli dei recuperi da schianto, cioè a doppia cifra. I reperti biologici presentavano differenti morfologie e si trovavano in stati diversi, ma non posso addentrarmi oltre a livello pubblico. Ad ogni modo voglio incoraggiare il Presidente e altri che ne hanno titolo a riferire pubblicamente sui recuperi di reperti biologici ed esorto il potere esecutivo del nostro paese a informarne il mondo? David, da decenni noi sentiamo storie su supposti incontri, patti e addirittura trattati fra il governo degli Stati Uniti e gli alieni. Nel 2020 l'importante scienziato israeliano Haim Eshed ha confermato apertamente un tale scenario. Ne sei per caso al concorrente e, naturalmente se ti è possibile, puoi forse dirci qualcosa in proposito, since decades we keep on hearing stories of secret United States government E.T. contacts and pacts and even treaties struck with the E.T.s. In 2020 the prominent Israeli scientist Haim Eshed also openly confirmed this scenario. Are you by any chance aware of this? And if possible, of course, can you tell us something on this subject? Non ho mai intervistato nessuno che avesse conoscenza di prima mano in merito a comunicazioni attive o interazioni con intelligenze non umane. Sono molti quelli che ritengono che probabilmente ci sia almeno un aspetto del programma che tratta di questo, ma io non ho mai avuto modo di intervistare nessuno con esperienza diretta, quindi tutto quello che posso dire sono solamente voci o speculazioni. Ma comunque la domanda è decisamente appropriata e anch'io desidero avere la risposta, perché non ho mai avuto modo di intervistare nessuno che avesse esperienze di prima mano, che mi mettessero in grado di dire qualcosa a ragion veduta su questa faccenda. David, venendo ora alla questione che ha sollevato tanto interesse in Italia e non solo, ovvero il cosiddetto caso dell'UFO di Mussolini, già confermato prima che tu lo menzionassi da lui Elisondo, potresti precisarci in che modo sei venuto a sapere del fatto, delle sue caratteristiche e via dicendo? Coming now to the subject that has raised quite a bit of interest here in Italy, that is the so-called Mussolini UFO case. Confirmed before, you mentioned it also by Luis Elisondo. Could you please elaborate on the way you got to know the event, its characteristics and so on? Sì, qualcuna delle persone da me intervistate, che poi ho indirizzato all'Ispettore Generale, mi ha fornito un briefing sul coinvolgimento degli USA nei vari eventi di recupero che si sono verificati nel corso degli anni e il caso di Mussolini, che interessantemente è già noto al pubblico, grazie al vostro lavoro, cioè lo schianto del 1933 nell'area di Magenta, è stato uno di quelli di cui mi hanno parlato e che ho incluso nella mia domanda all'ufficio di prepubblicazione dell'esercito in modo da poterne parlare pubblicamente, perché penso che sia un caso internazionale davvero notevole, che dovrebbe suscitare un forte interesse, non solo a livello degli Stati Uniti ma anche europeo. Ciò che è interessante su questo schianto è che, questo non l'avevo detto pubblicamente ma l'avevo incluso nella domanda, è che quando recuperarono i resti dell'oggetto, questo aveva una forma come di campana o ghianda, mi hanno detto che pensavano che l'oggetto avesse in origine una forma lenticolare o a doppio piatto e che al momento del recupero tutta la porzione esterna si era staccata e la forza dell'impatto aveva deformato lo scafo dandogli questa forma come a campana. il Papa Pio XII fu coinvolto nel fatto e tramite l'OSS inviò un comunicato che finì sulla scrivania del Presidente Roosevelt, ma per quanto ne so, sempre che i documenti non siano stati distrutti, da qualche parte negli archivi segreti vaticani si dovrebbero trovare evidenze documentali. Questi ufficiali che mi hanno fornito il briefing, tutta gente con conoscenza di prima mano, ritengono che il Vaticano dovrebbe ancora avere questi documenti che non dovrebbero essere stati distrutti dato il coinvolgimento del Papa Pio XII e come abbiamo detto l'oggetto fu recuperato alla fine della guerra ed entrò in possesso degli Stati Uniti dopo la guerra. Una semplice curiosità, visto che l'oggetto era di discrete dimensioni, tu sei stato nell'aeronautica militare americana e tua opinione che esso potesse essere stato portato negli Stati Uniti su un aereo o magari su una nave. Just a curiosity, you have been in the United States Air Force, so this can be your opinion. Since the object crashed in Italy was, after all, rather big. Do you think that it could have been taken to the United States in an airplane or via a ship? Non ricordo che mi abbiano mai detto come l'oggetto è stato portato negli Stati Uniti, ma se posso azzardare una speculazione basata sulla mia conoscenza degli aerei di allora, i vari B-29, B-17, C-47, sulla base delle dimensioni che mi hanno riferito, insomma si trattava di un oggetto piuttosto grande, una buona decina di metri di diametro, penso che la soluzione più probabile sia la spedizione via nave, sembrava troppo grande per qualsiasi aereo di trasporto dell'epoca della seconda guerra mondiale che conosco, comunque queste sono pure speculazioni, non so veramente come l'abbiano trasportato. David, ci potresti confermare se tu sei al corrente del fatto che in questo crash del del 1933 a Magenta, da questo crash sono stati recuperati dei corpi? So David, can you confirm whether or not bodies were recovered from the 1933 Magenta UFO crash? Anch'io ho fatto la stessa domanda a coloro che mi hanno fornito il briefing e la risposta è stata no. non ricordano alcun tipo di materiale biologico associato allo schianto, era solo un artefatto quello che fu recuperato, quindi loro non erano al corrente di corpi recuperati così come non lo sono io. Sei a conoscenza di altri documenti originali riferiti a questo incidente di Magenta, siano essi italiani, americani o tedeschi? David, finalmente, sei aware dell'esistenza di altri documenti originali, sia di origine italiani, americani o germani, collegati all'italiano del 1933 UFO crash? Suppongo che nell'archivio presidenziale riservato del presidente Roosevelt ci potrebbero essere documenti, ma queste sono ricerche che non sono mai riuscito a condurre personalmente, quindi a parte questo non sono al corrente di altra documentazione, oltre forse a documenti interni dell'epoca relativi al programma statunitense di recupero e cose simili cui le persone che ho intervistato avevano avuto accesso nel loro servizio governativo. Cioè c'erano anche altri eventi sui quali mi hanno fornito rapporti che ho costantemente letto, ma questi sono eventi diversi che comunque non si erano verificati in Europa occidentale. Ti volevo chiedere se ci puoi dire qualcosa di più della dimensione internazionale di questi progetti di recupero e di retroingegnerizzazione di, chiamiamolo di UFO praticamente, perché finora abbiamo sempre parlato degli Stati Uniti, ma vorremmo sentire qualcosa relativamente a quello che si sa e quello che si può dire naturalmente di altri paesi. So Dave, this is going to be the final question of this interview. Could you elaborate on the international dimension of this UFO retrieval and reverse engineering programs which happened in other countries, of course, as far as you can tell? Sì, questa è un'estensione di quello su cui ho parlato nella mia iniziale intervista a NewsNation menzionando la guerra fredda e la corsa agli armamenti. È una cosa che si è sempre verificata dietro le quinte e di certo i nostri avversari hanno i loro programmi di recupero e c'è sempre stata una competizione per a riuscire a procurarsi questa roba e b per cercare di conseguire avanzamenti ingegneristici che consentano lo sviluppo di nuove armi ai fini di supremazia militare e ben poco di queste tecnologie è andata a beneficio della società civile. I nostri avversari hanno certamente i loro programmi. Ad esempio la Cina ha recentemente annunciato di avere la loro task force per gli UAP in un articolo del South China Morning Post del giugno 2021. Veniva descritto come i cinesi facessero uso dell'intelligenza artificiale per valutare i casi UAP. La Russia invece non ha fatto dichiarazioni pubbliche di questo genere che io possa ricordare cioè sicuramente ne hanno fatte negli anni 90 come credo dovresti sapere ma la Cina è stata l'unica a fare un annuncio ufficiale almeno del fatto che hanno una task force non necessariamente altro ma sta di fatto che è da molto tempo che siamo coinvolti in questa attività cioè in questa competizione con i nostri avversari. Ok, good. So this is the end of the interview. Now I'm going on with the closing of the interview. Ok, Dave. Allora siamo arrivati alla fine di questa intervista. Grazie, grazie, veramente tante grazie per averci concesso una parte del tuo tempo e naturalmente congratulazioni, congratulazioni di cuore per quello che hai fatto. Naturalmente buona fortuna e tutto quanto di meglio ti si possa augurare. Puoi contare su di noi per quanto riguarda i materiali relativi a tutti i casi italiani naturalmente è quello naturalmente di Mussolini e naturalmente questi saranno a tua disposizione. Grazie, grazie. Grazie mille.